per tornare di moda Scusa, ma se vieni dall'Africa, perché sei bianca? Oh mio Dio, Karen, non puoi chiedere alla gente perché è bianca? Che cosa sei? Sono una topa, no? Ok, lo dici tanto per dire, no? Perché? Baccia bene È tuo cugino? Sì, ma è mio cugino di primo grado Appunto Allora ci sono i cugini, poi ci sono i cugini di primo grado, poi quelli di secondo grado, poi quali... No, tesoro Non si può, vero? Tu non sei scema, Karen No, in effetti sono scema, vado male in tutte le materie Beh, deve esserci una cosa in cui sei brava So mettermi tutto il pugno in bocca, vuoi vedere? No, non fa niente Qualche altra cosa? Sono una specie di senitiva Ho un quinto senso Che vuoi dire? È come avere delle percezioni o roba simile I miei seni mi dicono sempre quando sta per piovere Davvero? Ma è pazzesco? Beh, me lo dicono solo mentre piove Oh mio Dio, quant'è noiosa Chi? Chi sei? Gretchen Certo Aspetta Oh mio Dio, quant'è noiosa Lo so, scaricala Ok, che cos'è? Regina dice che tutti ti odiano perché sei una troia Ha detto questo? Io non te l'ho mai detto Un po' brutale, Gretchen Comunque hai il diritto di sapere Non posso uscire Sto male Che troia Salve, qui è Karen Smith Ci sono 20 gradi centigradi E c'è un 30% di possibilità che stia già piovendo Eh eh